Siamo in compagnia di Edoardo De Blasio nella sua casa romana, leader del movimento liberale antiproibizionisti, un movimento che nel suo nome richiama ovviamente a una realtà, un partito storico italiano, il partito liberale, ci in qualche modo illustra e ci presenta questo movimento proprio in relazione a questa tradizione storica italiana del partito liberale. Edoardo De Blasio. Grazie Gianni. Allora, brevemente perché vorrei parlare anche di molte altre cose importanti quest'oggi. Come ho detto già altre volte in precedenza, siamo una realtà politica, un'associazione politica creata da sei mesi a questa parte, siamo degli ex dirigenti del partito liberale, dei dirigenti liberal progressisti e abbiamo deciso di fuoriuscire da questo antico e grande partito di lunga tradizione del Paese per poter effettivamente fare un progetto politico di ampio respiro soprattutto anche, anzi non soltanto rispetto a quelle che sono le problematiche socio-economiche del Paese ma per quanto riguarda anche il rilancio e la riproposizione di varie tematiche sui diritti civili che sono per noi una cosa, un aspetto fondamentale. Detto questo è appunto un movimento giovane, nonostante sia movimento giovane a oggi attualmente siamo la seconda realtà dati alla mano di quello che è la popolarità sulla rete, sui social network e sulla rete internet. Siamo a un ottimo punto perché per quanto riguarda il tesseramento dei nostri soci, dei nostri tesserati siamo già oltre le 3.000 adesioni, il che in pochi mesi è un risultato sorprendente e continuiamo a portare avanti tutte quelle che sono le nostre battaglie politiche. Fondamentalmente il movimento liberali antipribizionisti di cui sono attualmente il segretario nazionale è nato per portare avanti soprattutto varie tematiche sui diritti civili. Già soltanto il nome antipribizionisti ci rievoca immediatamente per esempio quella che è per noi una battaglia importante, quella della legatazione delle droghe leggere che fondamentalmente si può circoscrivere alla canapa perché questa è la droga leggera, cioè la marijuana, ovvero la canapa che poi tra virgolette viene trasformata anche nell'hashish. ma fondamentalmente è quello di legalizzare una pianta millenaria che ha tantissimi utilizzi per cui sia da quello prettamente ludico a quello terapeutico a quello industriale per portare avanti o a quello alimentare e per portare avanti anche oltre a questa battaglia anche altre. Altre battaglie come per esempio la regolamentazione della prostituzione, il fenomeno della prostituzione in Italia come in tanti altri paesi è un fenomeno anch'esso millenario, io ritengo che di fatto sia una professione, però a differenza di altre professioni quali sono le problematiche. A oggi in quello che sono i tempi moderni, ma anche allora, prima che fu promossa la legge Merlin e che quindi di fatto chiudeva quelle che erano le case chiuse, le problematiche non sono soltanto dal punto di vista economico e fiscale perché bene o male queste 70-80 mila persone che sono dedicate a questo lavoro, a questa professione, di cui soltanto un 10% pare che siano ostaggio della criminalità organizzata, bene o male fanno un fatturato immenso e quindi io ritengo che sia necessario, come fanno per esempio in questo in Germania, il fatto di dare anche un valore che possa essere riversato nelle casse dello Stato perché di fatto non vedo perché come in altre occasioni ci debba essere anche su questo punto una grossa evasione fiscale. Altri punti di vista importanti è quello anche di dare un equilibrio a quello che è una dignità della città, del paese perché è comunque un fenomeno che viene svolto soprattutto per le strade, fino ad arrivare anche a un discorso veramente molto importante che è quello sanitario perché obiettivamente, soprattutto in questo momento storico rispetto ad altri momenti precedenti ci andiamo poi a scontrare con quello che sono obiettivamente delle malattie che poi per quanto possono essere bene o male curate portano sicuramente al decesso della persona che contrae in questo caso malattie venere. Altre battaglie fondamentalmente importanti per noi sono quello che tra virgolette è ormai una cosa sdoganata in tutto il mondo civilizzato è quello di sostenere quelle che sono le coppie di fatto e sostenere i diritti degli omosessuali quindi che possono essere dei gay o lesbiche. fondamentalmente noi liberali intendiamo gli uomini e le persone tutti uguali, partiamo tutti dallo stesso livello, siamo tutti membri della stessa società senza nessuna distinzione e quindi è giusto salvaguardare i diritti di tutte le persone. in questo caso stiamo cercando di portare avanti dei provvedimenti per arrivare anche all'istituire il matrimonio fra omosessuali e sono contento di aver appreso ultimamente che anche il Presidente degli Stati Uniti si sia espresso a favore di questa battaglia politica il che senz'altro ci dà anche più motivazione perché noi abbiamo questo buono e cattivo difetto di guardare sempre gli americani e sicuramente gli Stati Uniti d'America possono darci in alcuni casi degli ottimi spunti di libertà e di liberalismo. Oltre a questo abbiamo tante altre proposte e battaglie politiche che seguiamo come per esempio il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una cosa che per noi soprattutto in questo momento storico è fondamentale, ovvero il fatto di dare una mano a tutti quei milioni di persone, di giovani ma anche di meno giovani che in questo momento o perché non hanno lavoro o perché hanno necessità di avere una vita dignitosa in qualche modo devono pur tra virgolette sopravvivere e quindi un aiuto di Stato comunque che in qualche modo possa dare delle agevolazioni economiche nell'attesa di ritrovare un lavoro, quindi sempre attraverso poi quelle che sono anche le proposte che si vengono a trovare negli uffici di collocamento eccetera. Quindi restituire attraverso una quota minima un aiuto da parte dello Stato che comunque incamera ormai delle aliquote di tasse di tutte le specie e siamo arrivati ormai a una pressione fiscale immensa, quindi restituire un po' di dignità anche a chi in questo momento ne ha di meno rispetto a tante altre persone, di potersi dignitosamente ritrovare in tempi ragionevoli un collocamento, un lavoro, un qualcosa che possa rilanciare l'autodeterminazione di se stesso e quindi ritornare a questo punto. Edoardo ci ha illustrato alcune delle caratteristiche di questo movimento e stavi parlando di una tensione dal punto di vista economico. L'Italia sappiamo che sta vivendo una tempera abbastanza negativa, abbastanza drammatica da questo punto di vista, la tassazione è molto alta, alcuni eventi drammatici come il terremoto in Emilia mi fanno pensare, appunto mi hanno fatto ricordare che tu hai preso una iniziativa ben precisa scrivendo una lettera al Capo dello Stato. Ecco, ce ne vuoi parlare e spiegarci di che si tratta? Sì, non più tardi domenica scorsa ho mandato una lettera al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, per suggerirgli fondamentalmente una cosa, visto che il Paese in questo momento non ha risorse economiche e visto che fondamentalmente i partiti politici o comunque quello che anche l'opinione pubblica sta consigliando ai partiti politici, che è fondamentalmente il fatto di rinunciare ai tanti benefici economici attraverso i rimborsi elettorali, ho soltanto espresso la mia volontà nei confronti del Presidente, dandogli un consiglio dicendo appunto che possa fare immediatamente un appello a quelli che sono tutti i grossi leader dei vari partiti politici per devolvere la seconda tranche che è ormai imminente dei rimborsi elettorali, proprio per fronteggiare quelle che sono le emergenze della criticità del terremoto in Viglia Romagna. Questo potrebbe essere, come ho detto anche al Capo dello Stato e come ho detto anche in rete, un ottimo messaggio da dare alla popolazione, questa popolazione che fondamentalmente oggi non crede più o la maggior parte non crede più in quello che è la qualità e l'essenza dei partiti politici e potrebbe in qualche maniera perlomeno un pochino ricredersi attraverso un atto di buona volontà. Ecco, io ritengo che personalmente io, noi nel nostro movimento non è né presente in Parlamento né assolutamente a livelli delle persone di cui sto parlando, ma se fossimo stati noi presenti tra i grandi partiti sicuramente io avrei devoluto la mia quota parte, ammesso e non concesso che l'avessimo ritirata a prescindere, perché dal punto di vista ideologico numeri liberali siamo contro questi rimborsi elettorali, perché? Perché poi comunque negli anni 90 attraverso un ottimo referendum si era abrogato questa disposizione che poi era fondamentalmente chiamato rimborso pubblico ai partiti. Comunque se l'avessimo presi e beneficiato di questi rimborsi elettorali comunque li avremmo devoluti attivamente e immediatamente per la popolazione terremotata. Questo è sinteticamente quello che ha detto il capo dello Stato. Il movimento liberale antiproibizionisti ha una certa attenzione anche a un argomento che non fa generalmente parte dell'agenda della politica più o meno stratificata e presente nel Parlamento, che è quella appunto dell'animalismo, dell'attenzione ai diritti degli animali. E su questo avete delle idee ben precise e ce le vuoi illustrare? Sì, come dici giustamente, i partiti politici, i movimenti politici si occupano fondamentalmente di tutto quello che gira intorno all'ambito dell'essere umano, quando se ne ricordano, ma a mio avviso, a parte piccole realtà isolate all'interno di qualche partito, non affrontano mai o non hanno mai affrontato seriamente il problema della vivisezione. Noi all'interno del nostro movimento politico siamo fondamentalmente anche animalisti e abbiamo a cuore quello che è la vita dei nostri, non soltanto i nostri animali di compagnia, ma di tutti gli animali in generale. Per cui stiamo portando avanti e sostenendo un disegno di legge che è un'iniziativa di un senatore che si chiama Alberto Filippi e stiamo cercando di sostenerlo sulla rete e attivamente durante anche manifestazioni e cortei per arrivare a quello che è un altro punto che vogliamo portare a casa, un'altra vittoria, cioè fondamentalmente l'abolizione totale della vivisezione in Italia. Ormai ci sono tantissimi metodi di sperimentazione alternativa, che se ne dica, e quindi è giusto non soltanto battersi a favore dei diritti civili, ma come è il nostro caso anche dei diritti dei nostri amici animali, cercando di evitare questa barbarie che a nostro modo di vedere è ormai anacronistica e inutile fondamentalmente. Edoardo, prima in tema di antiproibizionismo parlavamo ovviamente di legalizzazione della canapa e so appunto mi hai accennato che sei attivo anche su questo piano con una proposta che stai appunto elaborando. Ecco, di che si tratta? Riesci a perimetrare bene il campo d'azione, dici. Abbiamo, io e il Presidente del Movimento Tagliati abbiamo scritto in questi giorni una proposta di legge che per ovvi motivi non possiamo presentare noi perché non siamo parlamentari, ma cercheremo di farla proporre a dei parlamentari che pare si vogliono prestare a questa iniziativa ed è sinteticamente il fatto di proporre in Italia quello che è una legalizzazione basata sul metodo californiano, ovvero il fatto di dare ampio spettro a tantissime patologie e di dare appunto la possibilità sia dal, faccio degli esempi, dal malato terminale fino a chi può avere una patologia legata a forti emicrani, depressioni e quant'altro, la possibilità di curarsi in maniera naturale. Fondamentalmente ha grosse proprietà come la storia ci insegna perché le tantissime popolazioni in giro per il mondo che non sono così civilizzate si curano attraverso le piante, quindi risdoganare anche l'uso terapeutico delle piante e cercando poi però a prescindere da questa proposta di legge di quello in cui ci stiamo impegnando di far rendere più visibile nella comunicazione quello che è l'uso nei tanti settori di questa pianta. La popolazione che è stata sempre colpita dal messaggio proibizionista che diceva soltanto che era una droga e quindi l'associava a uno scopo prettamente ludico, come può essere il tabacco, come può essere i danni del tabacco o i danni dell'alcol, stiamo cercando di mettere in evidenza che non soltanto per un discorso terapeutico come in questa proposta di legge e non soltanto nel discorso ludico che obiettivamente rispetto al tabacco o all'alcol non provoca morti, non provoca decessi dati alla mano e confutati poi da medici, ma lo spettro di sperimentazione e di riproposizione è quello di riportarlo anche su tutti i vari settori, per cui dal settore tessile, dal settore industriale, quindi per esempio al settore cartaceo, al settore alimentare e quant'altro. Il messaggio è intanto adesso diamo questa pianta in alternativa a tanti medicinali che possono dare delle controindicazioni e che può essere curativa. Ci tengo a ricordare che il Presidente Tagliati è membro anche di un'associazione di malati di sclerosi multipla, è un dirigente emiliano e anche per esempio già soltanto in questa fascia di popolazione che è ampia perché i malati di sclerosi multipla in Italia pare siano stimati intorno a 60-70 mila persone e che non è poca gente. Questo, come tantissimi altri settori di malattie, possono essere i beneficiari di questa disposizione. Edoardo, in conclusione, questo movimento liberale antiproibizionisti si articola con delle strutture anche sul territorio? Puoi dirci in nome di qualche altro dirigente e soprattutto darci dei riferimenti su come poter accedere alla vostra attività politica? Sì, allora ci tengo a ridire un po' quelle che sono le tre persone che hanno fondato il movimento, che sono io insieme al Presidente del Movimento Augusto Tagliati e il coordinatore nazionale Antonio Dacol. Il movimento è strutturato su tutto il campo nazionale, ogni regione, comprese province, i grandi comuni hanno dei loro coordinatori di zona e sono dei coordinatori politici e coordinatori organizzativi. Per quanto riguarda la sede, stiamo cambiando sede. Ne abbiamo un'attualmente vicino al Pante, una piazza della Pegna e stiamo trasferendo una nuova sede qua vicino a Via Margutta, più ampia, dove probabilmente faremo anche tutta una serie di altre iniziative che vi dirò quando saranno messe a punto. Per quanto riguarda i nostri contatti, dove ci si può seguire, dove si può aderire al nostro movimento, abbiamo come tutti i movimenti politici, abbiamo il nostro sito internet che si chiama www.liberaliantiturbizionisti.org. Siamo su tutti i social network, fondamentalmente Facebook è sicuramente la realtà dove siamo più incisivi e lì abbiamo sia il nostro gruppo nazionale, sia i vari gruppi di riferimento e le pagine per quelle che sono le nostre proposte politiche e questo è il nostro modus operandi attuale. Stiamo in una fase di accensione motori perché ritengo che ormai a 10-11 mesi da quello che dovrebbe essere la nostra proposta sul territorio e la prossima elezione del nostro movimento penso che se tutto andrà come predisposto, quest'estate ci apriremo anche fisicamente su tutto il territorio dando visibilità alle nostre proposte politiche, cercando di aumentare già il nostro grosso numero dei tesserati e cercando di dare più visibilità anche sul territorio al movimento stesso per poi andare effettivamente nel pieno della campagna elettorale che a mio avviso inizierà poi da settembre prossimo a meno che non dovesse accadere qualcosa di clamoroso e il Paese non si trovasse nell'impellenza di andare al voto nazionale ad ottobre ma io mi auguro che invece possa essere posticipato perché fondamentalmente vorrei che Monti provasse a migliorare la situazione di governo che in questo momento non ci trova assolutamente a favore io trovo che sia un momento molto difficile per il Paese e si è giunto il tempo di dare un vero cambiamento sia di classe politica dirigenziale al Paese sia di proporre facce nuove ma soprattutto il fatto di dare alla popolazione un vero programma politico che non sia soltanto fatto di quello che è il modus operandi o comunque la moda del momento il fatto di gridare e fare antipolitica la politica non si fa con l'antipolitica la politica si fa sì forse anche attraverso il carattere dei vari leader il fatto di dire non sono d'accordo con le opinioni di questo o non sono d'accordo con quello che è stato fatto fino adesso ma bisogna portare delle soluzioni reali alla popolazione la popolazione ha bisogno di chi fa politica la popolazione è disincantata di chi fa politica e a mio avviso per fare una giusta proposta per questo Paese bisogna fare dei programmi concreti e bisogna andarli a proporre in maniera corretta alle persone non si fa politica con le grida, non si fa politica dicendo il peggio dell'altro sono vent'anni che si fa questo tipo di iniziativa sul territorio il bipolarismo a mio avviso ha fallito ma io mi auguro per il prossimo anno che si apra una terza Repubblica condita da gente esperta, da gente giovane, da gente non riciclata e da gente che ha voglia veramente di mettersi al servizio per la popolazione perché fare politica è una missione bisogna restituire un valore alla parola politica bisogna restituire la dignità alla figura del parlamentare bisogna incominciare a fare le cose che per tanti anni sono state rimandate e non lo sanno bisogna restituire un valore alla tirale risposta s non c